Notiziario CIS sulle limitazioni al traffico del 21 novembre 2024. In Friuli Venezia Giulia la strada statale 646 di Ucea è chiusa tra gli svincoli di Passo di Tanamea e di Saga, confine con la Slovenia, in entrambe le direzioni nei comuni di Lusevera e di Resia, deviazioni in loco. Nel Lazio sulla 90 grande raccordo anulare è attivo a una riduzione di carreggiata in fascia oraria 21.36 tra gli svincoli di Ospedale Sant'Andrea e di Via Cassia in direzione esterna in provincia di Roma. Nel Molise sulla strada statale 87 Sannitica è attiva una riduzione di carreggiata all'altezza del casello di Termoli dell'autostrada 14 Bologna-Taranto in direzione Termoli in provincia di Campobasso. In Sicilia sulla strada statale 113 Settentrionale Sicula in fascia oraria 8.17 è attivo un senso unico alternato in prossimità dello svincolo per Cefalui in provincia di Palermo. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero gratuito del CIS 1518 e il sito CIS.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario CIS per viaggiare informati e sicuri.